si può ma si può ma si può che la juventus perde anche con i relitti florenzi ha segnato florenzi gol 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 madonna mia florenzi ma vaffan cucciolo ma porca madonna papara mi girano i coglioni ragazzi che la juventus perde ragazzi spero che perde che vinca la juventus solo per il risultato nostro per la nostra classifica ragazzi certo che la juventus spero che perda è logico è solo per noi ragazzi per la qualificazione in champions ragazzi dovete iscrivervi al canale guardate i video ciao